E' stato siglato questa mattina a Pescara nella sede della prefettura l'accordo su Pescara Sicura stipulato da Prefettura di Pescara, Regione Abruzza, Amministrazione Provinciale, Comune e Camera di Commercio. L'accordo mira a rafforzare l'azione di contrasto dei fenomeni criminali che destano maggiore allarme sociale all'interno dell'area metropolitana, migliorando così il controllo del territorio da parte delle forze di polizia anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie. Inoltre con il protocollo si intende realizzare nuove strategie di intervento soprattutto nelle aree più periferiche della città. Nel campo delle nuove tecnologie, grazie al contributo di Fondazione Pescara Abruzzo, del Lance, della Cassa Edile, di Formedil Pescara e della BCC Castiglione Messerraimondo e Pianella e Cappelle sul Tavo, in attuazione del progetto Mercurio, le volanti della Polizia di Stato saranno dotate del sistema Scout Street che consentirà di migliorare le capacità di intervento e di controllo del territorio da parte degli operatori di polizia. L'accordo siglato questa mattina a una validità biennale potrà essere steso ad altri soggetti pubblici e privati della provincia di Pescara per la realizzazione di ulteriori progetti in materia di sicurezza urbana integrata.